alessandro basciano e le voci sul botox l'amico rompe il silenzio e svela la verità alessandro basciano noto ex concorrente di uomini e donne e del grande fratello vip è finito al centro delle discussioni sui social dopo la sua apparizione del 19 ottobre a verissimo dove è stato intervistato da silvia toffanin durante l'ospitata molti spettatori hanno notato un cambiamento nel suo aspetto il volto appariva più gonfio e teso del solito soprattutto nella zona degli zigomi e della bocca portando alcuni a sospettare che avesse esagerato con trattamenti estetici come botox o filler le speculazioni si sono diffuse rapidamente con commenti che paragonavano basciano ad altre celebrità che in passato sono state criticate per un uso eccessivo della chirurgia estetica alcuni utenti hanno anche ironizzato chiedendosi se l'ex tronista avesse fatto ricorso alla cosiddetta femminilizzazione del viso mentre altri lo hanno paragonato all'attore gabriel garco che anni fa si presentò in un'intervista con il volto visibilmente gonfio attribuendo il cambiamento a una reazione al cortisone a mettere un freno alle voci è stato ammedeo benza amico di lunga data di alessandro basciano e personaggio noto nel mondo del gossip in un post sui social benza ha svelato la vera causa del cambiamento fisico di basciano il suo aspetto durante l'intervista è stato influenzato dal trucco applicato dato che alessandro si stava riprendendo da un intervento chirurgico al setto nasale eseguito per risolvere problemi di respirazione è naturale che il trucco possa aver esaltato il gonfiore dovuto all'operazione la spiegazione ha parzialmente calmato le acque ma alcuni fan rimangono scettici notando che la trasformazione del volto appare comunque evidente in particolare diversi utenti continuano a sottolineare l'aspetto rigido degli zigomi e la maggiore pienezza delle labbra che non sembrano solo il risultato di trucco o gonfiore post operatorio altri invece si sono mostrati solidali con il dj difendendolo dalle critiche e sottolineando che ognuno ha il diritto di modificare il proprio corpo come preferisce se lo desidera nel frattempo alessandro basciano ha scelto di non commentare direttamente le voci sui presunti ritocchi estetici preferendo mantenere un profilo basso anche la compagna l'ex geffina e influencer sofico degoni non ha rilasciato dichiarazioni sull'argomento nonostante i tanti tag e domande dei follower sui social la coppia che recentemente ha festeggiato la nascita della loro bambina sembra concentrata sulla propria vita familiare e sui nuovi progetti lavorativi se il cambiamento del volto di basciano sia davvero dovuto solo al recente intervento al naso e al trucco applicato per l'intervista o se ci siano altri fattori in gioco resta una questione aperta tuttavia ciò che è certo è che la sua partecipazione a verissimo ha riacceso il dibattito sui ritocchi estetici e sul rapporto tra celebrità e immagine pubblica una questione che divide sempre l'opinione pubblica tra sostenitori e critici ti è piaciuto il video iscriviti al canale metti un like e attiva la campanella